Che vuoi? Uomini e donne, una dama potrebbe abbandonare il programma Wind Zuiden Uomini e donne, Anna Tedesco potrebbe salutare tutti i suoi fan e lasciare il dating show Cancelletto Uomini e donne è la popolare trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi. In questo momento la consueta programmazione è in pausa per le festività natalizie, e riprenderà l8 gennaio 2018 Quasi certamente nel nuovo anno assisteremo alla scelta definitiva del tronista Paolo Crivelline e allarrivo di un nuovo tronista In attesa della ripresa del dating show, ricordiamo che prima di Natale è stata mandata in onda una puntata del Trono Over che ha fatto discutere moltissimo i telespettatori Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, hanno attaccato duramente Cancelletto Anna Tedesco, sospettando che la dama potesse avere una storia segreta con il tanto discusso Cancelletto Giorgio Manetti In seguito a queste critiche, la bionda dama ha rivelato di non aver gradito gli attacchi di Tina e Gianni, lasciando intendere di essere sul punto di abbandonare uomini e donne di Maria De Filippi La tedesco, infatti, non si sarebbe sentita tutelata dal gabbiano Giorgio Manetti e, nel corso del programma, i due hanno finito per litigare. Anche Gemma Galgani è intervenuta per punzecchiare Anna, dicendo di condividere il pensiero degli opinionisti In seguito a queste vicende, il pubblico da diversi giorni si sta chiedendo se Anna Tedesco dirà realmente addio al dating show di Canale 5. Anna Tedesco abbandona uomini e donne? Anna Tedesco ha manifestato più volte alla redazione e alla conduttrice Maria De Filippi la sua intenzione di lasciare il popolare programma targato Mediaset, video. La dama non ha affatto digerito i pesanti attacchi subiti di recente in studio e, in questi giorni dedicati alle festività di Natale, ha postato un messaggio piuttosto sibillino su Facebook, qui cè ancora tanta verità e tanta semplicità. Qui cè amore vero, quello insieme alla tua famiglia. Questo sfogo ha insospettito i suoi fan, i quali stanno ipotizzando che Anna Tedesco abbia deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Al momento non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale, dunque bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per saperne qualcosa in più. I fan commentano il probabile abbandono della Tedesco. I follower di Anna Tedesco, dopo aver letto il messaggio della donna su Facebook, sono intervenuti per manifestare il proprio pensiero. Alcuni non vogliono che la loro Beniamina abbandoni definitivamente il programma, mentre altri hanno addirittura addossato le colpe di tutta questa situazione a Giorgio Manetti. Se volete lasciare un commento a questa notizia, potete farlo utilizzando la sezione che trovate nella parte inferiore della pagina. Invece per ricevere ulteriori aggiornamenti e news, video, potete continuare a seguire lautore di questarticolo.